Siete spettatori, oggi abbiamo uno studio meno colorato del solito, ma saremo in grado di poter condurre questa intervista, spero, anzi un po' nella cupezza che forse rispetta questo lutto incredibile. Lei ha sentito queste frasi e questa ricostruzione, io le ho volute proprio prendere a clip. Che cosa dice un ministro degli interni che si occupa di sicurezza e parleremo della sicurezza quando sente queste robe qui? Terribile, molto tragico ed effettivamente molto significativo quello che si rivela dalle immagini. Lei ne ha fatto un cenno nell'introduzione, talvolta noi affrontiamo gli esiti di queste tragedie immaginando che ci sia un quadro normativo di regole da elevare e da rafforzare. In realtà qui si vede che probabilmente, adesso io non voglio anticipare, sarà chi di competenza che dovrà in qualche modo analizzare, che è molto più importante investire su quella che è la sollecitazione dell'attenzione di chi deve applicare quelle regole, ma gli stessi interessati perché si vede la tragedia, la sottovalutazione anche di chi è su quello scenario. Anche la commistione tra la distrazione dell'utilizzo della videoripresa, dell'audio, dell'autovideoripresa, della suggestione di andare sui social. Dovremmo investire su questo tipo di attenzione. Senta ministro, lei oggi insieme a 400 persone delle forze dell'ordine, alcuni l'hanno definito un blitz, lei ha già sentito questa mattina, ha detto non è un blitz, faremo spesso delle operazioni di polizia di questo tipo, lo ha fatto a Caivano, servono queste operazioni, hanno un significato duraturo, non a beneficio del telegiornario. Assolutamente sì, perché voglio precisare perché ho detto subito, non è un blitz. Perché? Per noi ha l'obiettivo di iniziare un percorso di riconduzione di un luogo come quello ad una conoscenza più approfondita delle istituzioni. Oggi noi abbiamo analizzato l'equivalente di neanche un decimo di quello che è tutto il parco verde di Caivano, perché ci sono state fatte 76 perquisizioni su 750 alloggi. Significa entrare lì, manifestare la presenza dello Stato. Abbiamo trovato in quantità, neanche mirabolanti, ma soldi, droga, armi e una serie di segnali che confermano che lì va... Io questo lo capisco, Ministro, però il punto che ovviamente è fondamentale è quante zone franche, come l'avete definita voi, esistono in questo Paese? E si può in ogni zona franca intervenire con le procedure di oggi? Capisce la sollecitazione? Sì, chiarissimo, assolutamente sì, io come anticipato, infatti già nei giorni scorsi, ho chiesto ai prefetti della Repubblica di fare una ricognizione sulle aree di rispettiva competenza per farci avere questo tipo di ritorno, per dare una risposta a questa sua domanda. Si può fare, io le dico Porto, non voglio citare me stesso, il vissuto da prefetto di territorio e voglio dirlo, non è la prima volta che si fanno cose di questo tipo. Oggi c'era il clamore legato al fatto che era successo quello che era successo a Caivano, ma si può fare, si deve fare. Perché a Napoli un ragazzo di 16 anni riesce a sparare nel pieno centro della città per futili motivi, il perché e i futili motivi non potrà certo spiegarmi di lei, ma c'è una diffusa percezione che c'è una criminalità minore nel paese italiana e non solo di immigrazione come qualcuno. Assolutamente sì, Napoli poi presenta questo problema in maniera ancora più grave che in altri territori del paese, c'è questa criminalità minorile e questa disponibilità delle armi sulle quali pure cercheremo di andare a fondo. Ecco, ma questo io scusi se le interrompo, le armi i ragazzi non le possono comprare, cioè come si fa a intervenire legalmente sulle armi? E' già illegale, è un po' come il video che abbiamo visto all'inizio. Cioè ci sono delle cose per cui si sa, un ragazzo di 16 anni con precedenti non ha armi. Certo. Cioè non c'è una legge che aiuta su questo. No, non c'è la legge. Non potrà mai esserci. Non possiamo avere questa visione assoluta, insomma, del valore delle leggi. Anche qui stiamo affinando dei ragionamenti con le autorità territoriali per vedere di andare a cercare qualcosa di più, dove in qualche modo è immaginabile che questi ragazzi vivono e vivono detenendo delle armi. Quindi anche questo ci ripromettiamo di fare... Il sud è diverso dal nord in questo? Le aree, diciamo, di frontiera sono più al sud che al nord? Beh, guardi, io sono meridionale, quindi senza tema di così. Il sud presenta, come dire, un dato storico di maggiore criticità. Oggi però, io ho detto, le periferie stanno crescendo, non solo come luoghi fisici, ma anche periferie dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista morale. Ed è un fenomeno che si sta espandendo ai margini delle aree metropolitane. L'immigrazione peggiora questa situazione o è una questione parallela? L'immigrazione può peggiorarla nel momento in cui alimenta la crescita delle sacche di marginalità. Ecco, perché è un fenomeno che va affrontato con coerenza, con concretezza, pensando che non basta immettere nuovi cittadini, immaginato che sono ingranaggi dei sistemi economici, ma dobbiamo pensare ad una sostenibilità anche dal punto di vista... Avete fatto delle operazioni di polizia nelle stazioni di Milano, me le ricordo, ne parliamo a Quarta Repubblica tante volte. Anche Roma e Napoli. E anche Roma e Napoli. Però continuano le stazioni a essere zone di nessuno. Guardi, le faccio una domanda che le farei quasi al bar, non qua. C'è qualcuno che dice, le stazioni, io voglio vedere sempre, forse è l'ordine che stanno lì e che controllano ogni istante. Adesso le dico male, è la critica che farebbero d'altra parte, militarizzatele. Certo. Le dico male, perché è la critica che... Capisco il senso. Guardi, in pratica l'abbiamo fatto. E la riprova sai dov'è? E nel fatto che gli episodi che comunque si sono verificati sono stati, se non prevenuti, attraverso la presenza della militarizzazione, come dice lei, col fatto che tutti gli autori di episodi delittuosi sono stati nell'immediatezza assicurati alla giustizia. Non basta. Le stazioni hanno una grande vocazione storica ad essere il luogo dove si concentrano queste sacche di marginalità sociale. Anche qui non basterà, forse, ricorrere solo agli strumenti della sicurezza, ma anche fare una riflessione. Cos'è una baby gang? È davvero pericolosa? Siamo noi giornalisti che esageriamo? No, no. Non esagerate. È una semplificazione terminologica che segna questo disagio giovanile che tende a far manifestare un'aggressività dei ragazzi, dei giovani. Un disagio che si trasforma in un'aggressione. Gli inglesi riuscirono a sconfiggere, attraverso operazioni di polizia e non so, ma inizialmente di polizia è inutile che ci giriamo intorno, il grande fenomeno degli hooligans. Stadi, concentrati, cattivoni che facevano dei danni mostruosi. Come si combattono le baby gang? Cioè, avete un Consiglio dei Ministri? Ci sono delle anticipazioni? Quali sono i strumenti? Guardi, un'anticipazione. Noi, probabilmente per volontà del Presidente Meloni, già giovedì verrà portato qualcosa all'approvazione del Consiglio dei Ministri che sarà specificatamente orientato su questo tema. Io non voglio fare anticipazioni perché è giusto che passi prima attraverso le concertazioni interministeriali, ma ci metteremo mano già a partire dal Consiglio dei Ministri. Senta, quanto è importante per il Consiglio dei Ministri e quanto è concentrato sul tema dell'immigrazione? Raddoppio degli sbarchi rispetto all'anno scorso, ma situazione tunisina che non era immaginabile. Lei conoscerà molto meglio di noi quello che è successo e che sta succedendo in quella parte del mondo. Quindi certamente ci sarà un'operazione internazionale di cooperazione, il Fondo Monetario, quello che vuole lei. Però alla fine il tema è che noi abbiamo una quantità di sbarchi. In questo il Governo cosa intende fare? Quanto è concentrato? Esiste una ricetta? C'è qualcuno che non la vuole? Allora, le dico in pillole. Innanzitutto io ci tengo a dire che l'amministrazione che io presiedo quest'anno ha retto l'urto di un forte impatto migratorio. Noi luglio e agosto abbiamo avuto addirittura 50 mila arrivi e tutto sommato, con tutte le critiche, le polemiche, le cose, abbiamo retto l'urto perché abbiamo organizzato una rete di accoglienza, una rete di distribuzione delle persone sul territorio che ha retto. Poi dopodiché è evidente che questo non basta. Noi stiamo lavorando sia sul versante internazionale, sia su alcuni aspetti specifici del fenomeno. C'è il tema anche qui dei microni stranieri non accompagnati che gravano sul sistema di accoglienza. Anche qui stiamo lavorando a delle rifiniture normative e ad un adeguamento dell'organizzazione che possa rendere più sostenibile. E l'ultima domanda. Abbia pazienza se insisto ancora su questa cosa, perché il senso della sicurezza si dà attraverso operazioni come quelle di oggi. Però il senso dell'immigrazione che porta a una sensazione di insicurezza esiste in questo Paese. La soluzione, oltre a bloccare il più possibile, è quella di ricollocarli in Europa, cosa che non ha molto funzionato, o riportarli nei loro Paesi? Allora, la soluzione è cercare di bloccare il più possibile le partenze. Quelli che arrivano a soggettarli a quelle che sono le norme europee e nazionali, quindi implementare il sistema dell'espulsione dei rimpatri. Io su questo ci ho messo la faccia e sto scommettendo. Rimpatri ha detto. Rimpatri assolutamente. Quindi anche qui il tema è far rispettare la legge. Chi ha diritto rimane, chi non ha diritto. Dobbiamo migliorarci su questo. Grazie, grazie. La ringrazio per essere stato con noi proprio oggi. È stata una lunga giornata. Da Caevano che è stato a Trieste. Grazie per essere stato a Roma con noi.